La BCC di Civitanova, Marche e Montecosaro ha obiettivi di sviluppo sul territorio. Entrare a far parte di questo gruppo bancario cooperativo, di cui capogruppo è Cassa Centrale Banca, quanto può essere importante ai fini di questi obiettivi di sviluppo? Sicuramente per noi è fondamentale perché l'appartenenza a questo gruppo sicuramente ci potrà far accelerare questo processo di crescita. Per uno sviluppo che noi abbiamo necessità di portare avanti.